Come si esce da qui? Non farlo, Jack. No! 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 Apri la porta! Non posso, non posso, Jack. Se lo faccio moriremo. Non menti! Apri quella porta! Jack, non posso! Sta dicendo la verità, Jack! Attento, giuro che l'ammazzo. Va bene. Falle aprire la porta e morirà comunque. Moriremo tutti. Jack! Jack! No! No! Il pulsante! Il pulsante giallo! Il pulsante! Il pulsante!